Il mercato del bitonto calcio sarà fatto di conferme importanti e grandi firme in arrivo. E' questo il piano varato dal direttore sportivo Alessandro Degli Esposti, di concerto col mister Roberto Taurino e il presidente Francesco Rossiel. Restano dunque il portiere dei record Antonio Figliola, classe 99 e soprattutto 885 minuti di imbattibilità lo scorso anno per lui, la rivelazione Savio Piarulli, mezzala diciottenne, lo scaffato baluardo invalicabile Paolo Lomasto, trentenne centrale difensivo, il forte 26enne compagno di reparto Sabino Colella, il pendolino magico e immarcabile Onofrio Turitto, 28 anni. In forse, perché tentato anche da società di Serie B, il gioiello e idolo di casa Chicco Patierno. Destino incerto pure per il dio oscuro Riccardo Lattanzio, 31 anni, e il frangiflutti di centrocampo Max Marsili, 33. Dopo aver incassato l'addio del salgariano Gianni Montrone, ex capitano 34enne, si registra la fine dell'avventura in Nero Verde per il millennial Michele Terrevoli. Il 27enne Ciro Amelio pare sia sulla rotta per Molfetta e l'elegante Raffaele Vacca, classe 81, sembra si stia casando ad Andrea. Il 2000 Giacomo Zaccaria è in trattativa col Taranto, mentre Luigi Gianfreda e Roberto Pierno, rispettivamente classe 2000 e 99, sono legati alla sorte che toccherà la casa madre giallorossa, il Lecce. Il 34enne Carlo Sturubiasone è andato a rinforzare ancor più la Slai Trani. Il DS Spoletino, ora, sta sondando la sua ex squadra, il Cerignola, per verificare la disponibilità al trasferimento nella città degli Ulivi del cubano Simon Raider Rodriguez, 31 anni, e di Lorenzo Longo, 26, col secondo in vantaggio sul primo. Sono state avviate trattative significative anche per il centrocampista Francesco Dettori, 37enne del Potenza, e in attesa che si compia l'ultimo atto del torneo di Serie C, è stato attivato il dialogo con altri sodalizi professionistici per rinforzare ulteriormente la Rosa.